Siamo con Davide Voltano al termine di Feralpi Salò, Reggiana 3 a 2, si potrebbe dire se è entrato tu e cambiato la partita, anche se poi alla fine i tre golli ha fatti Andrea Ferretti, però il tuo apporto alla gara è stato molto importante, hai trovato spazio, sei subito andato alla conclusione, sei entrato subito molto bene in partita. No, sicuramente mi sentivo bene quando sono entrato, però comunque è stata tutta la squadra nel secondo tempo che è riuscita a dare un piglio diverso dal primo tempo, siamo stati anche molto alti, molto aggressivi e siamo riusciti in dieci minuti a ribaltare la partita, una cosa ancora più bella vincere così perché comunque dal 2 a 0 in dieci minuti e fare 3 a 2 penso sia ancora più bello vincere così. Partita importante quella che avete giocato oggi, adesso ce ne sarà un'altra altrettanto importantissima dopo il Natale, chiuderà il 2017 a Meda contro il Renate. Sicuramente sarà un'altra partita importantissima perché comunque sapevamo che erano due partite fondamentali oggi contro una squadra che era pari punti e siamo riusciti a portarla a casa e anche con il Renate comunque è una squadra forte perché l'ha dimostrato perché comunque è lì, quindi sarà un'altra partita difficile in casa loro. Grazie a tutti.